Oggi vedremo come andare a leggere e decodificare una stringa in json con arduino il json è un sistema che viene utilizzato per scambiare dati soprattutto su internet ed è un metodo per rappresentarli in modo che sia comprensibile sia agli umani ma anche elaborabile da un computer o un microcontrollore come appunto arduino iniziamo subito oggi parliamo del formato json è un formato per andare a rappresentare dei dati che devono essere scambiati tra dei sistemi non è l'unico sistema utilizzato per scambiare dati un altro molto famoso è l'xml storicamente è nato prima l'xml è un formato che usa dei tag realizzati con i segni di maggiore e minore qui dentro possiamo mettere qualsiasi tipo di nome e ci serve per organizzare le nostre informazioni non è mia intenzione adesso andare a parlare dell'xml ci fermiamo al json quindi è un sistema per rappresentare dati in modo che possono essere comprese sia dalle macchine che dai computer in questo caso anche da arduino un dato json viene racchiuso tra delle parentesi graffe quindi inizieremo così e qui in mezzo ho i dati che voglio andare a trasmettere è una specie di struttura ad esempio posso mettere sensor due punti qui dico gps che cos'è questa cosa qua? è una coppia nome valore sono separati dal punte virgola posso metterne più di una quindi all'interno di queste graffe ad esempio posso mettere il tempo in cui è stato registrato questo dato immaginate che vengono prodotti dal gps quindi metto time e poi qua gli mettiamo che ne so la data la data piacere 0101 bar 2021 punto e virgola e metto tutti i dati come voglio una specie di tabella di riga di una tabella possiamo anche mettere più dati in seguito posso mettere anche dei numeri per esempio faccio val due punti e qua gli metto un numero direttamente ho messo punto e virgola ma sono tutte virgola 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 e addirittura posso andare a mettere degli array qui facciamo data per esempio i dati rilevati dal nostro gps per indicare un array metto le quadre e poi vado a mettere i valori se sono quelli del gps saranno 45.21000 metto numeri a caso virgola l'altro dato è 7.3512 eccetera eccetera chiudo la quadra e infine chiudo la graffa quindi questo qua è il nostro pacchettino i nomi che metto qua sono a mio piacere se volessi creare un pacchetto dati json che rappresenta un indirizzo sono libero di mettere per esempio nome cognome via telefono quello che volete voi vediamo come poterli interpretare con arduino sono formato dati molto importante per le applicazioni internet degli oggetti e in generale quando si scambiano dati su in rete esiste una libreria molto ben fatta che possiamo utilizzare vi riporto qua l'indirizzo è arduino json vado a mettervi l'indirizzo della libreria che andremo a utilizzare qui in modo che potete anche dargli un'occhiata allora andiamo a installarla faccio tool manage library nel library manager proviamo a cercare arduino json da me è già stata installata vedete guardo ino json 617.3 install la installate e chiudete per poter elaborare i dati in json la prima cosa da fare è includere la libreria quindi faremo include arduino json punto h per ora non ci collegheremo a internet quindi ci basta una seriale in cui vedremo come elaborare questi dati allora inizializzo la seriale con begin 9006 io ho collegato un arduino mkr quindi facciamo così faccio un while verifico che la seriale sia pronta all'uso while not serial while not serial continue in modo che attendiamo che sia pronta dobbiamo creare lo spazio in memoria per il nostro documento json andiamo a creare quindi un static json document questo è l'oggetto dobbiamo dirgli quanto è grande quindi mettiamo 200 byte quindi andiamo a leccare 200 byte di memoria per questo documento purtroppo sono formati dati che mangiano parecchio a memoria e sarebbe raccomandabile magari utilizzare con degli microcontrollori con delle schede un po' carrozzate perché altrimenti finite subito tutta la memoria ma questo qui è è lo spazio che verrà usato per rappresentare i dati che adesso andremo a preparare allora li vado a scrivere come un array di caratteri lo chiamo char facciamo json aperta e chiusa lo definiamo con una stringa quindi tra le due virgolette vado a mettere per esempio il dato che abbiamo visto prima quindi metto le due graffe e poi qui dentro come abbiamo visto prima faccio le virgolette sensor poi faccio due punti mettiamo il tipo abbiamo detto gps poi faccio virgola poi gli mettiamo time facciamo due punti metto le virgolette mettiamo magari un timestamp a volte vengono usati questo tipo di dati invece che mettere proprio la data però potremmo mettere anche una data nessuno ce lo proibisce a volte questi timestamp sono in formato numerico quindi non servono le virgolette abbiamo detto che avevamo per esempio un valore per vedere proprio un numerico quindi abbiamo val val due punti mettiamo per esempio 2 o 123 e poi proviamo a mettere un array facciamo data due punti data va messo sempre tra virgolette due punti mettiamo le quadre e qui dentro due numeri a piaceri abbiamo detto che sono delle coordinate quindi 45 punto 1 2 3 4 5 6 virgola 7 punto che può numeri a caso ok ma questo qui è il json come lo vedrei diciamo su internet questa è una stringa purtroppo devo andare a sistemare un po' di cose perché come vedete ho la virgoletta qui dentro non va bene quindi devo fargli l'escape con la barra inclinata davanti a ogni virgoletta dopo aver preparato i dati vado a fare questo lavoro in modo che abbia una stringa corretta cioè i caratteri gli apicini non vengono interpretati come fine stringa ok questo qui è il nostro dato che adesso andremo a elaborare una volta ricevuto lo vado a preparare con il metodo deserialize json cosa gli passiamo? gli passo il doc dove verranno messi tutti i dati e la stringa che ho ricevuto json la mettiamo qua ma questo può produrre un errore è un errore di tipo deserialization error un oggetto deserialization error nome molto lungo chiamo e quindi nel caso qualcosa vada male questo oggetto viene valorizzato e posso andare per esempio a analizzarlo per vedere cosa è successo quindi mi darà per esempio se c'è qualche dato invalido o è successo qualcosa che non va bene possiamo andare a scriverlo quello che otteniamo facciamo serial.print mettiamo errore facciamo println copio serial.println vado a capo ma per vedere quello che c'è dentro quindi il tipo di errore possiamo fare e.f underscore str aperto chiuso mi stampa proprio l'errore dettagliato ovviamente poi qua mi devo fermare quindi farò abort e blocco l'esecuzione ok se invece le cose vanno bene ci troviamo con l'oggetto doc valorizzato con dentro dei valori possiamo andare a metterli dentro delle variabili allora abbiamo il primo dato che è sensor come faccio a estrarlo basta che facciamo così faccio doc aperto e chiusa dentro metto sensor questo mi estrae il valore legato a sensor quindi dovrei vedere poi gps ma questa è una stringa quindi vado a prepararmi una stringa deve essere un'area di caratteri lo suggeriscono di dichiararlo come costante quindi faccio const char asterisco mettiamo sensor gli do lo stesso nome così faccio meno confusione e poi lo stampo quindi faccio serial.println anzi facciamo print punto e virgola subito dopo mettiamo ancora println dentro prima mettiamo sensor che sarà una stringa faccio sensor due punti e qui sotto sul println faccio sensor possiamo già provarlo a vedere cosa succede quindi lo compiliamo speriamo di non aver fatto errori andiamo a selezionare la scheda vi ho detto che io ho un mkr wifi 1010 quindi seleziono la scheda corretta ovviamente voi andate a impostare la vostra scheda funziona con tutti i tipi di arduino compiliamo carichiamo apriamo il serial monitor vedete stampa sensor gps quindi perfetto andiamo a estrarre gli altri dati avevamo allora questo time che è un numero prepariamo qui un'altra variabile allora sarà tipo long chiamo time per estrarla basta fare doc quadre e qui mettiamo il nome del dato che mi serve quindi time procediamo con le altre copiamo il serial print lo vado a mettere qui qua scriviamo time ok carico e apro il serial monitor per vedere il risultato appena sarà pronto dovremo vedere comparire il tutto ecco qua anche il valore di time abbiamo poi un intero quel var allora preparo un int val uguale faccio doc aperta chiusa val e lo stampiamo qui sotto subito sotto time val carichiamo apriamo il serial monitor ecco qui anche il nostro val infine l'ultimo dato quello un pochino più complicato è quello con l'array abbiamo la nostra latitudine e longitudine vediamo qua il tipo di variabile che scegliamo poi sarà l'estrattore che lo adegua quindi facciamo lat facciamo double lon come li estraggo sempre con doc chiuso allora sono dentro la struttura data questo è un array quindi per prendere il primo valore metteremo 0 per il secondo vado a copiarmi la scritta la metto qui sotto mettiamo 1 e qui in fondo copio due volte i print i println metto lat lat e qui facciamo lon lon salviamo il tutto compiliamo carichiamo apriamo il serial monitor ecco qua tutti i nostri dati ok qua gli arrotondati non è bellissimo quindi si può provare a forzare se non sbaglio possiamo mettere così quindi dovrebbe di solito ci arriva lui se no fate as aperta chiusa quindi mettiamo w questa scrittura un po' particolare ok mettiamo anche qua sotto proviamo a vedere se otteniamo i valori corretti ok purtroppo neppure forzandoli riusciamo ad avere la corretta precisione una possibile soluzione sarebbe quella di passare come string e poi fare noi la conversione quindi lascio eventualmente a voi l'esercizio quello che abbiamo visto oggi è poco utile se lo usiamo così in sé se siamo scollegati dalla rete ma diventa fondamentale se iniziamo a andare a interrogare dei servizi presenti su internet perché molti comunicano quindi vi danno una risposta in questo formato particolare bene per oggi è tutto vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao